Come al solito non mi stufo e io il mister sta per nascere una grande squadra, un grande gruppo e un grande settore giovanile. Quindi noi, io che sono stato sette anni qua, ci tengo ad avere una squadra che gioca a calcio, che non risponde a nessuno, che ce ne andiamo da questo campo senza problemi. Noi siamo di un altro livello, quindi cerchiamo di non cadere nelle provocazioni, facciamo vedere le cose buone che sappiamo fare perché siamo bravi, siamo tutti i 2002 e ci sono molti i 2003, il futuro è vostro. Buon divertimento e andiamoci a divertire.